Benvenuti all'edizione odierna del TGM su Tana Libera Tutti, influenza H1N1, novità sul vaccino, può essere preso per via orale, per via intramuscolare e per via che ne hanno prodotto i milioni di dosi. Tricolore, Castelli vorrebbe mettere sulla bandiera un crocefisso, Bossi lo redarguisce, eravamo d'accordo per un cesso. Bullismo, violenza sui compagni in sovrappeso, arrestato un sedicenne, lui si giustifica, dentro di me scattava qualcosa ogni volta che leggevo il foglio. Istat, disoccupazione in aumento ad ottobre, raggiunti i due milioni, e Berlusconi si difende, avevo detto un milione di posti, ma mai specificato se in più o in meno, Cribio! Trasporti, proposta della Lega Nord poter andare in autostrada a 150 km orari, lo fanno per tutelarsi, a quella velocità l'orecchio umano non percepisce le cazzate. Cronaca, morto carbonizzato il transbrenda, è stato un incidente, si difendono gli inquirenti, cercavamo solo di far luce sulle indagini. Influenza A, per i laziali una nuova cura, vitamina B12. Spettacolo, Violante Placido, che ha interpretato Moana Pozzi nella fiction e basata su di lei, ha detto Nell'interpretazione mi sono lasciata travolgere da Moana, da Rocco, dagli attrezzisti, dal regista e da due di passaggio. Grazie per l'ascolto, a voi la linea studio! Grazie per l'ascolto, a voi la linea studio!